Buongiorno a tutti e benvenuti su FGT Informatica Allora oggi volevo darvi un consiglio su come fare quando il gioco Apex Legends non parte Ok perché abbiamo visto che questo gioco ha molti problemi da tutti degli errori all'avvio Chi non riesce a giocare a chi crasha dopo un po' Ora vi farò vedere un metodo che risolve il 99,9% di tutti questi problemi di crash e errori vari Seguite tutto il video Allora molto semplicemente apriamo Origin e andiamo sul nostro gioco A questo punto clicchiamo con il tasto destro del mouse E andiamo nella voce Disinstalla Poi qualsiasi avviso che sbuca fuori schiacciare sì 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 e sempre sì E cancellatelo dalla faccia della terra questo gioco di marda Allora molto semplicemente